Ciao ragazzi e ragazze, buongiornissimo, bentornati e bentornate al Barbasso. Sono le otto e qualcosa di mattina, il campionato è fermo, ma dobbiamo parlare di un tema. Il tema di cui dobbiamo parlare sono le grandi polemiche riguardo a Pafundi, soprattutto riguardo a Reteghi, giocatore argentino che a quanto pare è riuscito ad avere con un escamotage permesso dallo Ius Sanguinis in Italia, ovvero un passaporto italiano per dei nonni o di bisnonni in provincia di Agrigento. Ora, la polemica è stata, ma è giusto che un calciatore che non ha mai visto l'Italia, non parla italiano, non ha mai giocato l'Italia, possa giocare a nazionale italiana? La risposta non la so, tenderei a dire di sì, ma in realtà ritengo che ci sia un problema molto più pesante alla base. Il problema pesante alla base, dicasi, che evidentemente noi non riusciamo a produrre dei calciatori professionisti di livello di una nazionale competitiva, competitiva, cioè appunto che riesca a qualificarsi ai mondiali e alle competizioni appunto importanti, salvo vincere un europeo per una serie di fortunati fattori, come lo vinse una Danimarca, come lo vinse una Grecia, anni or sono, e che il nostro movimento non riesca a produrre delle figure di questo tipo. E quindi il reale problema dietro tutto questo, dietro a questa grande polemica che divampa sui giornali e che continua a popolare le pagine e le bocche dei commentatori, è che in realtà il problema del calcio italiano è sempre lo stesso, questa è una faccia di lo stesso problema, identico di sempre, che andiamo avanti a disquisire da almeno dieci anni. Quindi la tematica non è tanto riguardante il fatto che sia giusto o sbagliato e che questo ragazzo giochi, segni e quant'altro. Quanto più, e anche perché questo poi dipende da tutte le regole delle leggi dei vari paesi, no? E quindi è anche difficile trovare una regola unica per tutti e forse non sarebbe neanche giusto. è sempre la stessa faccia, una faccia diversa dello stesso identico problema, ovvero un movimento in cui non si investe, perché è difficile investire, molto complicato investirci in questo paese, e non è perché i bambini non giocano più per strada a calcio, ci sono tutta una serie di motivi, questa non è una parte, ma non è sicuramente l'unico, e quindi di un sport, di un movimento che in generale continua a perdere appeal anche fuori. Quindi, quando vi parlano di questa cosa, per favore fate un ragionamento di pensiero critico e dite stiamo davvero parlando della convocazione di un ventenne in una squadra nazionale che tra l'altro per delle partite che valgono pure quel che valgono, oppure stiamo veramente parlando d'altro? perché la risposta è che stiamo parlando d'altro e mi rendo conto che sia più difficile andare alla root cause, alla causa scatenante di tutto, il mix di concause. Il mix di concause non è certamente imputabile a una regola che permette a un ragazzo argentino di vestire la maglia italiana o quant'altro. mix di concause è un mix che, se continuate a ignorare sistematicamente, sistemicamente dall'alto, probabilmente continuerà a peggiorare. Buona giornata e comunque, forza azzurri, stop whining. Buona giornata